Una nutrita schiera di vigili del fuoco volontari tra giovani allievi ed effettivi era presente ieri sera alla Rocca, dove il Consiglio Comunale ha discusso e approvato il rendiconto finanziario del Corpo di Riva riferito all'anno 2016. Una presenza dovuta alle polemiche innescate nella precedente seduta da alcune richieste di puntualizzazioni presentate dai consiglieri 5 Stelle, che avevano indispettito la maggioranza e sollevato alcune obiezioni anche da parte di alcuni consiglieri di opposizione. Nella sua relazione ampia e dettagliata il comandante dei vigili del fuoco volontari di Riva, l'ispettore Graziano Boroni, ha dato conto dell'impegno sempre più crescente e puntuale al quale sono chiamati quotidianamente i pompieri rivani. L'anno scorso il Corpo di Riva da solo ha effettuato interventi per un numero superiore ad alcuni distretti del resto del Trentino. I nostri rendiconti sono trasparenti e la nostra caserma è aperta a tutti coloro che vogliono venire a vedere come lavoriamo, ha commentato Boroni. Non nascondiamo nulla a nessuno. Sollecitato da alcune domande, Boroni ha detto che al momento attuale non vi sono i presupposti per parlare di un corpo unico dell'Alto Garda.